SABATO 7 SETTEMBRE 2024 Marco Crepaz. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulla prima pagina di questa edizione dell'Amico del Popolo. In primo piano una fotografia in merito alla situazione degli anziani in provincia di Belluno. Anziani sempre più soli, questo il titolo. Importante è programmare e promuovere progetti di invecchiamento attivo. Più della metà dei 28.000 ultra 75 anni della provincia di Belluno vive in solitudine. Più della metà degli oltre 28.000 ultra 75 anni della provincia di Belluno vive in condizioni di solitudine. Il dato è stato segnalato da un'indagine dello SPICI GL Veneto che, elaborando i dati messi a disposizione dall'Istat, ha pure evidenziato che quella di Belluno è la provincia che in Veneto registra la percentuale più alta di ultra 75 anni soli, senza tralasciare il fatto che il bellunese, insieme al territorio di Rovigo, è anche la parte del Veneto in cui le pensioni sono anche mediamente più basse. Tanti anziani soli e con risorse spesso limitate, uno scenario che impone una serie riflessione a livello politico, sociale e sanitario, è importante, sottolinea da parte sua lo SPICI GL, promuovere progetti di invecchiamento attivo per i quali però è necessaria una capillare programmazione e lo stanziamento di risorse senza le quali diventa difficile portare avanti le politiche e le iniziative mirate all'ottimizzazione delle opportunità di salute e di partecipazione e di sicurezza finalizzate a migliorare la qualità della vita delle persone che invecchiano l'approfondimento. Lo troveremo a pagina 3. Qual è il nostro motivo per sorridere? Ecco i 16 sorrisi offerti dai giovani animatori del campeggio che si sta svolgendo a Bieter per i ragazzi delle medie dell'Alpago. Il nostro motivo per sorridere, affermano, è il campeggio organizzato dalla parrocchia di Pieve. Una bella notizia fotografica presente sulla prima pagina di questa edizione dell'Amico del Popolo. Purtroppo invece una tragedia è avvenuta a Perarolo, incidente mortale lungo l'Alemagna, tragico il bilancio dell'incidente stradale verificatosi il 2 settembre sul ponte Cadore, un morto e sei feriti, ancora un decesso dunque su quel tratto di strada pericolosissimo che riporta all'attenzione di tutti il tema della sicurezza. La persona deceduta è un gallerista di Montebelluna di 75 anni che viaggiava su Napolo che si è scontrata con un tire. Nel sinistro sono state coinvolte anche altre due auto. L'11 settembre 21.000 studenti tornano in classe e ancora la cooperativa La Tebusche festeggia i 70 anni di vita. Dagli stili di vita al turismo è non solo. L'editoriale è un caldo record che deve mobilitare. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, Ambiente, il CAI contro la diga sul Vanoi, l'approfondimento a pagina 2, Chiesa locale, Feltra salutato, i padri cannossiani, Cultura, i tesori d'arte nell'oltre Piave, l'approfondimento a pagina 33, e ancora Sport in più di mille per la Transpelmo, l'approfondimento a pagina 36. Entriamoci all'interno di questa edizione dell'Amico del Popolo. La consueta rubrica in provincia e nel mondo si apre con la seguente notizia e il coordinamento delle sezioni bellunesi del CAI contro la diga sul torrente Vanoi ha approvato all'unanimità un ordine del giorno lo scorso 28 agosto a Longarone. E sempre a proposito di sfruttamento idrogeologico, mini idroelettrico serve un intervento legislativo per le questioni irrisolte. Ed ecco la notizia che ha aperto la prima pagina di questa edizione dell'Amico del Popolo. Siamo a pagina 3. Più della metà degli oltre 75 anni vive da sola. Nel Bellunese la percentuale più alta di tutte le province venete. Necessari interventi mirati per l'assistenza. Troviamo anche una tabella che rappresenta gli anziani soli nel Bellunese e in Veneto sopra i 75 anni. In provincia di Belluno, suddivisi tra nubili celibi, divorziati, vedovi. E vediamo appunto che i numeri sono davvero alti se li paragoniamo ai numeri e alle percentuali presenti in Veneto. Pagina 4. Marmolada, ghiacciai o sotto osservazione. Importanti politiche di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici. Dal 6 al 9 settembre la campagna nazionale di Lega Ambiente che monitora i ghiacciai alpini. Siamo alla chiesa locale. Prendiamoci cura. Un filo che lega 15 incontri. Sono aperte le iscrizioni al percorso di formazione teologica 2024-2025. Hashtag pensa che fede il programma del nuovo ciclo che inizierà il prossimo 4 ottobre. Ma continuiamo con le notizie deferite alla vita missionaria. Pagina 9. Don Augusto è tornato alla missione di Sacca Su. Anche alcuni giovani belonesi hanno vissuto con Don Antoniolo un'esperienza in missione. Un cordiale incontro con gli amici ivoriani, i consoli dai rapporti di amicizia e di collaborazione. Belluno, scuola, Borgo Piave e Badilet, pronte a ripartire. I bambini rientreranno nei loro plessi. Il comune al lavoro ha pochi giorni dall'avvio dell'anno scolastico. E ancora spesso il comune bussa alla regione. Palazzo Rosso nei giorni scorsi ha presentato la domanda di finanziamento. Tutto questo per il restailing dell'impianto. Notizia dai gelatieri. Gelatieri Zoldani in Sersa. Rispettata la tradizione anche per quest'anno, i gelatieri Zoldani hanno preparato il loro gelato in Sersa. La casa di riposo che si trova nel capoluogo bellunese. Ancora da Belluno. Campi omologati alla Zanon. Mazzoccoli si potranno continuare a ospitare le partite di campionato. Piazza Martiri. Fontana indecorosa per tutto agosto. L'interrogazione che è arrivata dal consigliere di minoranza Marco Perale. Valbelluna. Pagina 12. La memoria deve passare ai giovani. L'anniversario della tragedia di Mattmark. In cui 59 anni fa persero la vita anche i 17 bellunesi. Tutti gli interventi hanno sottolineato l'importanza di sensibilizzare le nuove generazioni. Soccer. 30.000 euro per il campo. Il vice sindaco Levis. I lavori dovranno terminare entro il 20 novembre. E ancora il 7 settembre. Il calcio ponte festeggia 60 anni. Siamo sempre in Valbelluna con pagina 13. Ponte nelle Alpi. E' elettrodotto. L'amministrazione Lavorato chiarisca in tempi brevi la sua posizione. Scuola. Studenti meritevoli. Assedico i premi. Sempre dalla Valbelluna limana in gara per il miele più buono. Aperte le iscrizioni per la nona edizione del concorso provinciale. La scadenza per la presentazione dei campioni è fissata per sabato 21 settembre. 2 di una all'entiai progetto di residenza teatrale. E continuiamo con pagina 15. Turismo in bici lungo gli anelli verdi. I percorsi promossi da una rete di agricoltori, ristoratori e consorzi. In tutto sono 7, di cui 5 sull'asse della destra, sinistra, piave. Su Spirolo, pome perde a Moldoi. Di nuovo un successo. E ancora da Borgo Valbelluna, addio a Paolino Tabacchi, fondatore della famiglia ex emigranti della sinistra, piave. Verso la rassegna in memoria di Carlin, notizia che ci porta in questo caso nuovamente a Sedico. La quarta edizione è in programma a Bribano, sabato 7 settembre. Notizia da Feltre, con pagina 16. Domenica 8 di scena alla pedala Feltre. Partenza alle 10, allargo Castaldi, arrivo alla peschiera, sede del quartiere Duomo. E ancora da Feltre, manutenzioni straordinarie, interventi sulle strade comunali. L'amministrazione comunale investirà 500 mila euro. Tornare ad uno del battaglione Alpini Feltre. La manifestazione si svolgerà nelle giornate di oggi, sabato 7 e domenica 8, insieme a quello del gruppo di artiglieria da Montagna Agordo. Sebusche, nuove misure per ridurre i disagi dovuti ai lavori al cavalcaferrovia. E a proposito di treni, in ottobre da Feltre a Montebelluna. Continuiamo con Santa Giustina, nuovo assessore per Santa Giustina. Il nuovo componente di giunta assegnata alla delega ai lavori pubblici. Parliamo di Renzo Minute. E ancora Cesio Maggiore, Perina Social Fest. Il Perina Social Fest, il programma questo pomeriggio, sabato 7 settembre, nasce dall'idea di alcuni amici sostenuti da Proloco, Soranzeno, Unione Sportiva Cesio, Gruppo Escursionisti Cesio e Comitato di Santa Gapito. Santa Giustina, un magazzino per la protezione civile, l'obiettivo è di ottenere quello della stazione ferroviaria. Continuiamo con pagina 20, Cortina d'Ampezzo, i piloni e la rete sopra l'accedel. La cabinovia da dieci posti collegherebbe Piazzale Revis a Socrepesse. Dal villaggio, voci di protesta contro il nuovo impianto. Ancora da Cortina, vecchia ferrovia, più alta la ringhiera, 30 cm di barriera sui parapetti del ponte, ma con troppi vuoti. E ancora, a Ronzo di Cadore, un blocco faceva da ponte, sembra non ci sia più difficile il passaggio fra le pale. Cadore, il teatro per capire i propri legami, legame con il territorio cadorino e legame storico con la Serenissima. Venezia incontra il Cadore e ha riscosso consensi unanimi. L'agio di Cadore, un fiore al di là, il libro con le foto di Dedonà. E ancora altre due notizie dal Cadore. La prima, Domeggia, lo sportello urbanistico per i suggerimenti. A rinnovo il piano degli interventi, il sindaco invita alla partecipazione. Vigo di Cadore, Margherita e Inardo al centro del palio. La soddisfazione enorme degli organizzatori, atmosfere del XIV secolo. Santo Stefano di Cadore, Galleria Comelico, iniziati i lavori. La Cisla chiede l'istituzione di un tavolo di monitoraggio permanente. E a Pieve di Cadore, ancora nella giornata di oggi, Corti inaugura l'organo. Passiamo in Agordino con Voltago, pagina 23 dell'Amico del Popolo. Progetto Radice, due percorsi, foto d'epoca sugli edifici e la scoperta della storia. A Voltago e Frasenè è realizzata la proposta di Erika Comina. Santo Maso a Gordino, una cena di pesce con il ristorante trevigiano. Alta affluenza alla festa dell'orzo e della birra artigianale. Ancora da Taibon, ci vorranno 4 milioni, la lunga gestazione del progetto per la casa di riposo. Valada Gordina, primi Eleonora e Mihail, la quinta, coron coi d'Ambrer. Tutte le classifiche della podistica dell'11 di agosto. Val di Zoldo, la chiesa di Mareson rinasce, con nuova copertura e risanamento perimetrale della muratura esterna. E ancora il campo di provagna per i cani da ricerca per le attività di addestramento. L'interventi fa d'alto la strada riaperta. ANAS ha completato la rimozione del materiale franato e i lavori di ripristino lungo la statale di Alemagna dopo la chiusura del 12 luglio. Notizia di spalle, consiglio, chiusura al termine della piana per lavori di messa in sicurezza. Passiamo al turismo, con la rubrica I nostri interessi, i ragazzi fanno da Ciceroni, Oscar Ganza, Martino Tura, Viola De Toni e Giada Tonan, Ina Gordino, le chiese di San Simon e San Rocco. E dalla rubrica In famiglia, firma di John Gigetto De Bortoli, esperienza di intelligenza artificiale messa in pratica. In meno di 5 minuti la conferenza è pronta con orari, slide riassuntive e immagini. Affido familiare un corso online, la partecipazione ai tre incontri è gratuita, le iscrizioni entro il 23 di settembre. Veneto alvia la formazione per prevenire e contrastare la violenza sulle donne, un percorso della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica. E ancora l'evento, estate per tutti, dal Farra e Catapan chiamano a raccolta più di 150 ragazzi, coinvolti i giovani con disabilità da tutto il Veneto. Cultura, pagina 33, i tesori d'arte tornano nell'oltrepiave. Il progetto era partito a Vigo nel 2003, all'agio la presentazione dell'ultimo volume. Passo della Sentinella, sul passo c'era anche Giovanni Lorenzoni, il suo ruolo nella riconquista del Valico e nelle polemiche del dopoguerra tra Giovanni Sala e Italo Lunelli. E ancora Belluno, Takezawa e Strabbioli al Teatro Buzzati. Domenica 8 settembre, musiche di Clara e Robert Schumann di Brahms e Strauss. Dosoledo, un libro, i ricordi di scuola, edito dall'Istituto di Ricerche Sociali e Culturali. Bellunesi nel mondo, la rivista BM si rinnova, articolo in formato audio in italiano e in inglese. E concludiamo con lo Sport, pagina 36, successo annunciato per la Transpelmo, oltre mille i concorrenti che hanno preso parte alla prestagiosa competizione. Corsa su strada, regionale CSI di Borca, bellunesi in evidenza. E ancora, il pilota Andrea Fontana verso Imola, campionato italiano di Gran Turismo. Infine, tiro a segno di Belluno, giornata promozionale. E con questa notizia è davvero tutto per l'edizione di oggi di Edicola Belluno, l'edizione del sabato dedicata al settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon fine settimana in compagnia, come sempre, di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Grazie. Grazie per la visione!